ciao ragazzi eccoci qua ben trovati oggi come vedete rifacciamo un video alla vecchia maniera ossia in stile camper anche perché c'è la giornata di pioggia il tempo è un po quello che è e anche però soprattutto perché mi avete chiesto in questo periodo veramente tante tante cose anche riguardanti appunto video vecchi dove parlavo un po del camper dei suoi utilizzi o comunque della vita in camper a 360 gradi da full timer e mi sono arrivati veramente tantissime domande e questo mi ha spinto ovviamente a dedicarci un video dove cercherò di dire un po quella che è la mia esperienza sì perché come chi mi conosce ormai ben sa secondo me non esiste una ricetta per la felicità quindi si può parlare solo che delle nostre esperienze e vedere se vengono più o meno condivise o se anche per qualcun altro possono essere fonte di ispirazione in qualsiasi modo o anche utili consigli tante volte più di quello secondo me non si può fare comunque logicamente cercherò di dirvi quello che quello che penso dei vari argomenti che mi avete richiesto sono probabilmente anche tematiche che chi mi segue da più tempo potrebbe già aver aver sentito grosso modo ma logicamente io vedo che sono video anche di due anni fa così che dicevano commenti odierni quindi diventano un pochino più difficilmente rintracciabili e allora ho detto rifacciamone uno un po più recente in modo che chi capita qua nel canale possa magari trovare subito qualche risposta infatti mi stanno arrivando tantissime richieste su l'acqua e consumi tutte queste cose un po che io ne ho già ne ho già parlato però ecco non c'è niente di male a poter ridare un'infarinata a tutto vorrei fare subito una piccola premessa che poi proprio premessa non è perché ritengo sia una cosa molto importante visto che queste domande appunto generiche mi vengono fatte principalmente da persone che si affacciano al camper quindi non hanno ancora un mezzo e sono solo incuriosite all'idea di poterci però andare a vivere io dico perché se uno lo prende per farci delle vacanze ecco è un pochino diverso il discorso diciamo che io lo affronto un pochino di più per quelli che hanno intenzione di avvicinarsi a comprare un mezzo per cambiare proprio la loro vita e far sì che poi diventi la loro dimora ecco quindi la prima cosa che direi a questo genere di persone è come come avevo già anche accennato di provare ad affittare o per un fine settimana o per una settimana quello che uno può logicamente fare un mezzo un camper e provare a viverlo in questo modo perché già un qualcosa di secondo me un po significativo potrebbe saltare fuori ovvero come mi trovo a bordo mi trovo proprio a disagio non capisco che gli spazi stretti o qualsiasi altro tipo di soluzione che il camper mi può offrire non può fare proprio per me ecco ci abbiamo fatto un weekend o una settimana e lo ribelliamo subito dalla lista delle possibili alternative per la nostra attuale vita molto semplicemente invece potrebbe anche essere che ci stimoli questa questa esperienza ci stimoli ci dia la voglia di provare a vedere se troviamo quello che ci piace per provare andarci a vivere per andarci a vivere logicamente ecco potrebbe essere già un bivio molto efficace un'altra cosa che interessa molto sono anche quello che riguarda le spese quindi visto che siamo ormai entrati nel mese di aprile vorrei portare fresco anche il conto delle mie spese per tutto l'inverno del gpl che ho dovuto sostenere come vedete io mi sono segnato le cifre con anche le date che io me lo segno sempre e facciamo subito un conto veloce di quello che ho speso avevo cominciato a rifare il gas il 30 di agosto per la prima volta che stavo terminando quello estivo che faccio poi l'ultima volta in primavera l'ho fatto primavera un'altra volta dopo l'ho rifatto il 30 di agosto quindi 23 24 gpl invernale velocissimamente sono 165 euro di gpl io considerate che quest'anno la spesa media al litro è stato sui 70 centesimi perché ho fatto un 69 71 70 centesimi in media per a oggi un totale di 165 euro cosa prevedo ormai con un po di esperienza che grosso modo ne dovrò rifare una ventina di euro facciamo 200 facciamo 200 tagliamo la testa al toro almeno stiamo tutti tranquilli questo gpl vi ricordo che è quello che io spendo in tutto l'anno quindi sui 200 euro per arrotondare e mi fa funzionare il riscaldamento della stufa truma il boiler e i fornelli per cucinare nonché anche il frigorifero quando sono in sosta un'altra richiesta che mi è stata fatta ultimamente e che trovo si ripeta ogni tanto nel tempo con una certa regolarità è per fare l'approvvigionamento dell'acqua io non sono un stramondo quindi non è che conosco tutte le fontane d'italia o cose del genere però io avendo deciso di vivere una zona più o meno prestabilita che è poi qua la zona della garfagnana come sapete sulle alpi appuane io riesco a trovare sempre delle fontanelle che mi ci posso ricaricare tranquillamente credo che così possa funzionare un po' a tutte le parti c'è anche un'applicazione anche se io non l'ho mai adoperata che so che si chiama fontanelle d'italia che può aiutare magari qualcuno che sta girando con il camper in zone che non conosce quindi ci si va semplicemente a parcheggiare vicino a una fontanella portandoci magari sempre dietro il nostro tubo dell'acqua con diversi adattatori per le fontane quello può essere molto utile ci si parcheggia vicino si inserisce la nostra gomma dell'acqua sia alla fontana che nel nostro serbatoio e si fa un bel carico di acqua se questo non fosse possibile perché magari la fontana non è fruibile proprio in un parcheggio quindi fosse un po' distante possiamo tenere a bordo anche una tanica da 10 20 litri a seconda di quello che vogliamo poi portare tutte le volte al camper andare semplicemente alla fontana a riempire questa tanica e dall'interno possiamo andare a versarla poi nel nostro gavone e riempirla così è un pochino più scomodo è un pochino più macchinoso però se abbiamo bisogno non c'è nessun problema anche a fare una cosa del genere magari dobbiamo fare giusto anche 10 20 metri per arrivare a una fontanina a volte possono essere messe all'interno di un parco oppure in una zona dove sulla strada non è possibile parcheggiare ci mettiamo lì e facciamo un po di un po di viaggi e ci prendiamo l'acqua che ci serve dopo che abbiamo caricato l'acqua il problema quale viene viene quello degli scarichi perché una volta che la diamo ad operata va a finire nelle nostre grigie e quindi dobbiamo sapere anche dove scaricarla altra cosa che viene richiesta più e più volte per scaricare i nostri camper sia che abbiamo il nautico ossia raccoglitore come ho io fisso sotto al camper un gavone dedicato apposta a questo con la sua saracinesca ad aprire sopra una griglia o che abbiamo la nostra cassetta che si può estrarre e andare a rovesciare manualmente il discorso non cambia quasi tutti tutte le città insomma comunque di frequente si trovano senza problemi scarichi gratuiti che i comuni mettono a disposizione apposta per i camper sono segnalati proprio con il camper e con la freccettina sotto come per dire qua ci puoi scaricare sono delle griglie dove noi possiamo andarci a parcheggiare e scaricare le nostre acque reflue sia per le nere che per le grigie se proprio questo non ci fosse in una zona dove siamo possiamo sempre cercare di appoggiarci a qualche campeggio logicamente in quel caso pagheremo qualcosa però la possibilità di fare lo scarico anche all'interno dei campeggi è una cosa fattibile l'importante è non farlo dove non si può poi la soluzione si trova comunque io di solito riesco sempre a trovare aree sosta gratuite e ormai le conosco diciamo per me è più facile perché come vi dicevo essendo qua in zona una volta che ho capito dove sono vado a colpo sicuro però anche se fossimo in giro queste cose comunque si trovano ecco perché quasi tutte le città o anche diversi paesi se sono un po più grandi di solito hanno proprio gratuita comunale un'area attrezzata per i camper velocissimamente così chiudiamo tutto il cerchio i camper sono dotati di tutto si può avere le solite cose che abbiamo a casa funzionano un pochino maniera diversa ma possiamo avere le solite cose che abbiamo a casa come ho appena descritto abbiamo l'acqua corrente e abbiamo una sorta di fognatura che ci portiamo dietro comunque è una sorta di fognatura possiamo andare a immagazzinare i nostri scarichi della doccia dei bagni del lavandino e poi abbiamo un boiler che ci farà acqua calda abbiamo una stufa o comunque un riscaldatore che ci farà calore all'interno della della cellula avitativa e abbiamo le luci vanno già con la sua batteria che abbiamo in dotazione però possiamo tranquillamente fare anche un piccolo impiantino con uno due pannelli solari per essercene ancora più tranquilli quindi abbiamo la corrente abbiamo il frigorifero abbiamo la stufa tutto quello che serve nel camper c'è tutto non sono delle semplici scatole come a volte mi sembra di capire le persone che non se ne intendono concepiscano sono proprio delle piccoli piccoli monolocali dove possiamo avere a bordo tutto e quindi non manca niente poi vi ripeto da lì a decidere di prenderlo come abitazione come casa dire questa voglio vivere lì ce ne passa quindi io vi consiglio di informarvi anch'io nel mio piccolo cerco di darvi qualche informazione come vedete e di provare di provare sulla vostra pelle cosa vuol dire quindi affittatelo affittate un fine settimana un camper provate a starci e vedete come fa se dovesse andar bene benissimo allora si può anche cominciare a cercare qualcosa e fare il salto altrimenti ecco sappiate che il mezzo comunque la possibilità di poter essere vissuto ce l'ha tutta se poi possa essere più o meno adatto alle vostre esigenze vi possiate trovare più o meno a vostro agio a bordo di un camper prendendolo logicamente proprio come casa quello spetta solo ed esclusivamente a buio grazie mille per avermi seguito in questa chiacchierata spero di non essere stato troppo noioso ho cercato di toccare tanti punti e di cercare di dare ancora qualche input in più anche se come sapete erano cose che mano mano erano già state dette nei vari video comunque mi sembrava giusto rinnovare un attimino anche il tutto quindi io vi ringrazio ancora tanto tutti gli iscritti tutti quelli che ci scrivete sempre nei commenti grazie di cuore e noi ci becchiamo come sempre alla prossima grazie a tutti